La SACAR nasce negli anni 60 e noi a Salerno, anzi Baronissi per essere preciso, costruiamo forni, macchine e attrezzature per il settore della pasticceria in special modo, ma poi allarghiamo la nostra proposta sia per la pizza che per il pane. Quindi abbiamo una completezza nel settore cottura, nel nostro stabilimento di Baronissi arrivano le lamiere di acciaio, queste vengono trasformate e poi viene fuori quello che possiamo ammirare nel laboratorio, quindi in questo caso dell'associazione siamo sponsor tecnici da anni e questo ci inorgoglisce non poco, siamo un'azienda del sud che lavora prettamente in modo artigianale e quindi questa è stata una nostra vocazione di base. Quando la nostra azienda negli anni 70 ha dovuto trasformarsi da quella che era un'azienda artigianale partita ovviamente dagli anni 60 da zero a industria e la proprietà che una grande mente di Saverio Caroccia che è stato il fondatore ha fatto una scelta intelligente. Il management attuale che io rappresento in questo momento della SACAR ha condiviso questa scelta e sta continuando in questa scelta che sarebbe quella di rimanere con produzione artigianale dove l'uomo trasforma le materie prime, quindi in questo caso l'acciaio e tutto quello che è la componentistica elettronica e con la sapienza e con l'esperienza mette insieme questi pezzi. Non trascurando quello che poi è lo standard qualitativo dell'industria, quindi un controllo della qualità dal prodotto che arriva nello stabilimento della SACAR a quella che è la trasformazione, a quella che è la lavorazione dei pezzi e il collaudo prodotto per prodotto. Quindi i nostri forni quando escono dallo stabilimento sono collaudati uno per volta.